Elisir di bellezza nasce dall'idea di fondere i classici servizi estetici con l'Air Stylist, un team specializzato al servizio delle donne per la cura del loro corpo e dei loro capelli. D'Elisir di bellezza troverai servizi di epilazione, pedicure, massaggi, manicure, richiostruzioni unghie, extension e laminazione ciglie, ma anche la cura dei tuoi capelli con tagli e piega di tendenza, colorazioni modi, conciature e trattamenti acute di bellezza. Vieni a trovarci nel nostro salone, lì troverai l'Elisir della tua bellezza. Dai laboratori e in te Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis www.einte.it Da Synergy Cittanova, continua la rottamazione sulle stufe a pellet, Nordica, Ravelli, Linea U2, CS Termos, dal Zotto, scontiamo il tuo salto fino al 65%, pagamento fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio, consegna e installazione a domicilio, Synergy Cittanova, vicino alla Villa Comunale. Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà, caciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico, antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro Caciuto, bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante-pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello Chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, Ristorante-pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, Lungomare Lato Nord Lavorata a porte e finestre, ha iniziato una grande vendita promozionale. Porta in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Nuovo punto vendita del caseificio Ilma. Da noi è tutto rinnovato, ampia vetrina, ampia scelta, ampio parcheggio, decisamente tutto nuovo e tutto ampio. L'unica cosa rimasta uguale è la qualità, perché era già ineguagliabile. Caseificio Ilma, nuovo punto vendita, con trada canne, vicino alla rotonda a Caulonia Marina. Caseificio Ilma, qualità ineguagliabile. Caseificio Ilma, qualità ineguagliabile. Buona mattinata a tutti e benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo questa mattina, come al solito, con i principali poidiani calabresi che vedete in edicola. La vedete già in primo piano, Gazzetta del Sud. Come vedete, si parte subito con oggi la sentenza sulla Calabria, ovvero la sentenza del Covid. Capiremo perché ora all'interno del giornale, perché conterà l'ultimo aggiornamento dati. Le misure eventualmente potranno essere ricalibrate. Nel nuovo DPCM, gradi diversi di restrizioni per arginare il virus, decide. L'indice RT legato ai contagi, maggiore la stretta in tre regioni. E poi in drangheta il clan di Platri e il riciclaggio in Lombardia. Indaggia la DDA di Brescia, quella legata alla televendita dell'otto. Voleva bruciare viva l'ex moglie Maria Antonietta, cilorusso condannato a 18 anni. Lo vedete nel fotino. E di nuovo campagna elettorale nella città metropolitana. I partiti al lavoro per la presentazione della lista. Confermate il voto per il 29 novembre. Come sapete, ora si vota per i consiglieri metropolitani, ma è una elezione di secondo livello. Covid, oggi la sentenza, dicevamo, sulla Calabria. Quindi si capirà che tipo di restrizioni, quali provvedimenti nazionali ci saranno e come sarà applicata il codice RT per la Calabria. Comicità e non solo, un attore versatile, bravissimo e molto amato. E così si tratta, vedete nella foto, di Gigi Proietti che si arrende al Cavaliere Nero. Eccolo qui, un ultimo saluto. Uccise una tabaccaia a Reggio a colpi di machete, ma falsa partenza per il processo. E poi varapodio i furbetti dei buoni spesa. Scattolano 13 denunce. Terrorismo avviene, un'esplosione e spari intorno alla sinagoga. Almeno due vittime. Lasciamo, diciamo, la parte iniziale della prima pagina per andare all'estero. Parliamo di elezioni negli Stati Uniti. Martedì dell'America, così è stato definito. Election Day, il favorito è Biden. La sfida per la Casa Bianca. Riflettori, come sempre, sugli stati chiave e sul Texas. Li vedete entrambi in foto. In carica, a 74 anni, Donald Trump. Parecchi repubblicani non lo amano. E poi c'è Joe Biden, democratico, a 77 anni. Vice durante la presidenza di Obama. Ma il vero avversario del Tycoon è, vedete, Obama. Questo è quanto viene detto. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud per il momento e andiamo su Quodiano del Sud che, come vedete, anche qui l'emergenza Covid verso il nuovo DPCM nella regione. Ieri 254 nuovi positivi. La Calabria a rischio zona rossa, ma può ancora evitare la chiusura. E qua viene specificato la regione insieme a Lombardia e Piemonte con l'indice RT sopra la soglia indicata dagli esperti. Ma oggi si attendono nuovi dati. Ancora due vittime, una a Catanzaro e l'altra a Reggio. A Cosenza, 101 nuovi casi e ricoverati. Superano i 70. 11 positivi a Corigliano Rossano Crotone. Chiusi due studi comprensivi. 7 insegnanti contagiati a San Pietro a Maida. Un bollettino di guerra oggi. Sanità, nuovo decreto e i nuovi poteri del commissario. Previsti fondi straordinari dalla regione. Altri aiuti per i lavoratori e le imprese. E poi vedete, morto nel giorno del compleanno, l'Italia piange. Gigi Proietti quando adottò la Calabria. E poi all'interno gli speciali. La fotonotizia. Tamponi, lunghe code, iDrive a Cosenza. Erressa a Montalto. La fila, vedete, nelle auto in via degli stadi a Cosenza. Andiamo ancora con altre notizie. Il vero limite della democrazia americana. Lo scrive l'ex presidente della regione, Agazio Loiero, sul Covid, una babbele di parole. Poi sanità e Covid, se ci fosse ancora Bond. Un richiamo a James Bond. E poi, vedete, Reggio, Tari, pagamenti prorogati. Fino a giovedì, l'annuncio fatto dalla società Hermes, mentre fioccano le polemiche. E poi clamoroso doppio disagio. Servizio inesistente e impossibilità di pagamento. Reggio, caso Rositani, l'ex marito era capace di intendere e di volere le motivazioni della sentenza. Se 18 anni, come abbiamo visto. E poi l'operazione, vedete, riciclaggio con i soldi dell'821, indagati a pagina 12. Francesco Sorgiovanni ci spiega il perché. Lasciamo anche Quodiano del Sud. Andiamo a dare uno sguardo a Calabria Live, autorevole web, il più autorevole web, web quotidiano digitale dei calabresi nel mondo di Santostrati, fondato e diretto. Abbiamo commesso un errore, ma torniamo a riaprire la nostra versione live, perché è interattiva. Quindi abbiamo cliccato dove non dovevamo. Sibari, il Frecciargento diventi fisso, Calabria Ionica è più vicina all'Italia. Quindi questo è l'auspicio, ma probabilmente sarà così. A fine dicembre scade la convenzione Trenitalia e c'è il rischio che il collegamento venga sospeso. Questa è la paura, invece. Timori per il mancato rinnovo della linea dopo fine anno. Il collegamento serve a un bacino d'utenza di circa 150.000 persone nella costa calabrese e lo Ionio fino a Bolzano, passando per Roma, che la Regione deve intervenire. E quanto viene messo in primissima pagina. E poi vedete la foto di Tallini, del Presidente del Consiglio regionale. Decreto Calabria e Tallini al governo trovare un provvedimento equo ed equilibrato che coinvolga la Regione Agricoltura per gli imprenditori agricoli calabresi. In arrivo dalla Regione ben 52 milioni di euro, che non mi sembrano proprio pochi. Caligiuri, col decreto Calabria e governo, si beffa dei calabresi. È una critica. Soriano Calabro, archeologa Mariangela Preta, nominata direttrice e curatrice del Polo Museale, mentre la campagna il Polo Net contro l'abbandono di mascherine e guanti. Compra Calabria, nuova piattaforma di e-commerce virtuoso, apre le iscrizioni dei produttori e dei negozianti in Calabria. Reggio Santa Caterina, panchina degli innamorati, poi mai dal Comune partecipa al Bando Sport e Periferie. E poi Federcaccia e il coordinamento delle associazioni venatorie calabresi bocciano la Regione sul calendario. E poi c'è uno speciale, vedete, porte d'artista, a Sersale, il Centro Storico si trasforma in un museo a cielo aperto con l'idea di Massimo Sirelli. Lasciamo Calabria Live, andiamo su Gazzetta del Sud, apriamo insieme il giornale, che come vedete la foto principale è quella appunto del nostro Gigi Proietti, dico nostro perché aveva adottato la Calabria. Andiamo all'interno. Governo è ancora scontro appunto con le Regioni, appello del Colle, ora collaborare, spostamenti ridotti e stop nel weekend ai centri commerciali tra le ipotesi nazionali, vedete, e poi qua vedete i tre scenari del prossimo DPCM, c'è il rischio grave, il rischio medio, il rischio ridotto. E qui le Regioni, quali sono i parametri? L'indice di contigiosità RT è uno dei parametri, è un indicatore, diciamo così. Poi c'è il numero dei focolai e l'occupazione dei posti letto. Qui la Calabria è messa bene almeno per le terapie intensive, bisogna capire ora che tipo di posti letto andranno a verificare. Ogni Regione viene inserita in un livello di rischio con ordinanza del Ministro della Salute. E poi vedete i limiti di spostamento tra le Regioni, salvo che per lavoro, studio o necessità. E poi c'è il limite di circolazione delle persone nella fascia serale, più tarda coprifuoco nazionale sarebbe. Poi i centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi tramite, e poi tranne ovviamente i negozi alimentari, le edico, le farmacie e le parafarmacie. Ed ancora altre chiusure sono i centri scommessa, i corner scommessi, i giochi, musei e mostre. Mezzi pubblici, capienza ridotta al 50, e qua tocca poco la Calabria perché di mezzi pubblici ce ne abbiamo veramente pochi. didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, nelle secondarie e secondo grado. Qui praticamente si va a scuola solo i ragazzi delle scuole elementari. E poi vedete la curva epidemica in leggera, frenata. E' proprio così. ieri la curva ha cominciato a raffreddarsi un po'. E' un auspicio, ma l'abbiamo visto con i dati statistici, quindi ci auguriamo che continui questa tendenza e non sia solo un'illusione, ma ormai è da 5-6 giorni che c'è questa leggera frenata. Ma il fisico, se Stili avverte, la crescita rimane esponenziale e ancora la crescita c'è, è chiaro. Non bisogna cantare vittoria. La pandemia è un treno in corsa che ha solo decelerato. E speriamo che continui a decelerare. Trasporto locale il limite di capienza si abbassa dall'80 al 50. Vedete l'annuncio poi di AstraZeneca, vedete, a marzo la distribuzione capillare del vaccino. Quindi a marzo sarà distribuito il vaccino e questa è una cosa positiva. Passi avanti nella profilassi italo-britannica. All'inizio dell'anno avremo già 3 miliardi di dosi a disposizione, quindi per i più bisognosi. Non sono degli annunci fatti così, ma sono annunci su dati concreti, quindi bisogna necessariamente. E poi vedete l'Italia divisa in tre fasce e la Calabria resta col fiato sospeso. È importante questa Piemonte e Lombardia verso la chiusura in Alto Adige lockdown per tre settimane. E qui vedete anche un grafico importante con tamponi e casi positivi. Vedete le percentuali di tamponi nuovi casi e il rapporto che è salito negli ultimi giorni in maniera vertiginosa, cioè i tamponi quando si fanno risultano al 16% positivi, quindi vuol dire che il virus circola. Questo è certamente diciamo l'interpretazione, la lettura che poi è una fonte grafico del sole 24 ore. Casi ancora in crescita, avete ieri 233 decessi stretta, sui giochi si spengono le slot machine, resteranno aperti l'otto e superiore all'otto, quindi le slot machine per ora è così. E poi per le elementari e medie basta e resta la didattica in presenza, come vedete, possibili restrizioni in base alla diffusione del virus nella diversità del paese, però la didattica di presenza rimane e le vedete nel fotino il ministro dell'istruzione a Solina, quindi anche in questo senso è una vittoria a metà per la ministra perché ovviamente avrebbe voluto altre scuole aperte ma forse è meglio così. Lockdown locali anche per i calabresi questa è ancora un interrogativo e Arcangelo Badolati giornalista della Gazzetta del Sud in questo suo articolo ci spiega il perché la ragione è ritenuta ad alto rischio di trasmissione è incontrollata del virus ma la situazione può ancora cambiare e ci spiega all'interno perché la chiusura totale a livello provinciale potrebbe durare tre settimane quindi è da capire dove questo codice è alto. Oggi nuovo monitoraggio dell'istituto superiore di sanità poi la decisione del ministero della salute e poi le restrizioni e poi parliamo di didattica digitale 3 milioni e 600 mila euro nel decreto ristori poi infermieri tenuti fuori dall'assemblea di condominio vedete un caso a Cosenza c'è la paura ovviamente ma non bisogna fare cose irrazionali rianimazione disposto all'aumento dei posti e poi le riunioni di condominio si possono fare online non è necessario andare di presenza bisogna evitare gli aiuti decisi dall'aggiunta regionale vedete poi sostegno a imprese operatori commerciali ai pendolari di trasporto pubblico la riunione dell'esecutivo è stata presieduta dal facente funzioni Nino Spirli dal vice presidente andiamo ancora anzi lasciamo per un attimo il coronavirus gli scontri a Milano tifoso ucciso chiesti 16 anni per l'ultra vedete in foto e poi Marchino picchia la figlia perché vive all'occidentale arrestato a Milano la 17enne ha raccontato tutto alla polizia era vittima di violenze anche la moglie separata quindi una violenza domestica continua è morto padre Sorge gesuita e politologo l'ex direttore di civiltà cattolica lo vedete padre Sorge era 91enne tra gli anni 80 e 90 era stato teologo della primavera di Palermo lo ricorderemo quando fondò insieme la rete l'America al vuoto tra incertezze e paura ed è così il presidente promette una lunga battaglia legale per contestare le preferenze per posta Trump sondaggi bufala rivinco io e poi Biden il caos è finito tensione alle stelle in Texas Obama tutto campo dietro l'avversario Dem scambio di ruoli è così che viene appunto identificato Mosca delusa la Tycoon adesso guarda oltre vedete il cremelino vede punti di contatto con l'ex vicepresidente e poi attacco a Vienna almeno due vittime e sette feriti gravi e poi l'inglese è morto l'inglese Robert Fish famoso inviato di guerra aveva 74 anni e poi sulla manovra vedete il pressing per alzare il deficit i premi economici ci sono perché il covid non è solo e poi vedete nello spettacolo queste pagine queste due pagine era giusto così in le gazzette del sud dedicate proprio a Gigi Proietti dagli che brutto scherzo che ci hai fatto addio all'immenso Proietti tutta l'Italia lo piange se si accade un attacco cardiaco nel giorno del suo ottantesimo compleanno e qui aveva pure vedete scherzando il corno il tipico cornettino calabrese che per gli scongiuri e poi lo ricordiamo tutti il Malesciallo Locca il palcoscenico della tv insomma un uomo veramente amato che ha fatto dispiacere la sua morte e il suo addio a tantissimi italiani lasciamo la parte di sport e andiamo su Calabria vedete i paletti del nuovo decreto Calabria sulle nomine dell'ultimo mese sono nulle quindi è un problema definiti dettagli del provvedimento che ridisegna la sanità il testo delle prossime ore sarà approvato al Consiglio dei Ministri Cotticelli per ora rimane ma presto arriverà il super commissario è quanto viene detto però diciamo sono nulle le nomine dell'ultimo mese questo può essere anche un problema fondi per l'agricoltura in arrivo 52 milioni della domanda unica e poi in basso Federcatch contro la vinca della regione le associazioni venatorie lamento una serie di penalizzazioni inique e poi Abramo Customer Corps in crisi 3.000 posti di lavoro a rischio e c'è e poi sul riciclaggio vedete ce ne siamo occupati ieri nel servizio e qua viene poi approfondito vedete il riciclaggio a Brescia i vantaggi a Platì i magistrati antimafia contestano ai 21 indagati di aver favorito il clan Barbaro Papalia e qui c'è l'approfondimento di Antonello Lupis con l'operazione Scarface la DDA Lombarda ha scoperto che l'andrangheta veniva favorita lavando il denaro sporco con il lotto pensate l'imprenditore era anche un imprenditore televisivo che mandava in onda a televendite per riciclare alcune imprese televisive di proprietà in ambito locale e nazionale attraverso trasmissioni per le previsioni dell'estensione dell'otto e sarebbe occupato di riciclare ingenti somma di denaro prevedendo prevento diciamo di attività illecite grazie all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e per qua ci spiega tutto il sistema avrebbe favorito diverse esponenti del clan di spicco originario di platì papalia barbaro barbaro papalia di bucinasco con il quale pur non risultando affiliato aveva rapporti Francesco Mura era appunto in strettissimi rapporti e poi qui ci spiegano Villa Mura a Porto Cervo i sequesti anzi ora sono sequesti poi eventualmente diventeranno confische vedete coinvolti anche due appartenenti sempre nella stessa situazione delle forze dell'ordine che sono stati sospesi dalla funzione pubblica quindi un'operazione a larga scala un patto d'acciaio per svuotare le aziende e truffare lo Stato tre arresti finiscono i domicilialli imprenditori Lamettini Alfredo Mercuri 56 anni Antonio De Fazio 62 nei guai pure un operatore milanese sequestrate le cose societarie di DR alluminio e Halmer sotto chiave 2,5 milioni e qui l'operazione della Guardia di Finanza che ha ricostruito le azioni fraudolente Vibbo vedete spazzatura resterà sulle strade conferimento solo con contagocce e poi a Pizzo carenza idrica la Sorica sollecita a intervenire sollecitata a intervenire rogo in discarica rilevate sul terreno pericolose tracce di berilio e vanadio che sono due sostanze molto pericolose nell'incidio del 4 ottobre distrutto l'impianto di recupero e di riciclo dei rifiuti il progetto di Nami Mileto presto di lavoro e poi impiantistica sportiva via libera al restyling a San Nicola andiamo a Reggio ecco vedete al via un'altra sfida elettorale per la città metropolitana tra domenica e lunedì la presentazione delle liste ed ancora tanti nodi da sciogliere vedete i candidati e le liste e qui sono i fotini vedete abbiamo Antonio Castorina Giuseppe Marino Armando Neri Catarina Belcastro Sindaco di Colonia Presidente dell'Assemblea dei Sindici della Lottide Daniela Arfuso Giuseppe Ranuccio Demetrio Marino Giuseppe Zampogna e Pierpaolo Zavettieri la città metropolitana domenica e lunedì avvierà quest'altra sfida elettorale nell'area di centro-sinistra uno o due formazioni una del PD e l'altra del sindaco l'ipotesi listone unico per sfruttare il quorum per il centro-destra col Rebos Lega e quanto appunto ci si avvicina alle elezioni che ricordiamo sono elezioni di secondo livello e non di primo ovvero non votano i cittadini ma votano i soggetti delegati dai comuni e poi vedete nove comuni esclusi dal voto non sono elettori di organi non elettivi quindi hanno commissari prefettizio componenti eccetera eccetera quindi sono fuori dalla partita sia Siderno che Delia Nuova dove si andrà al voto poco prima della data del 29 novembre stessa sorte spetta ai comuni di Palizzi Africo Careri Santofemmina Spromonte San Giorgio Morgeto San Lorenzo Medo Portosalvo Sinopole Stiro che in questo momento non hanno rappresentanti eletti quindi anche loro non saranno rappresentati tutti i propri nomi in corso per entrare a Palazzo Alvaro che ieri è stato chiuso e sanificato per il virus anche lì ci sono stati dei problemi e poi vedete alle urne 1055 ma il disinteresse è altissimo le comunità piccole rischiano di sparire e la gratuità dell'incarico fa il resto quindi quella questa è la situazione le preghiere dell'arcivescovo per tutti i defunti e poi il servizio di igiene ricadente almeno scadente il servizio di igiene almeno si riduca la tale questa è la richiesta e poi piano criminale programmato per uccidere Maria Antonietta vedete il gruppo Valerio Trovato ha depostato i motivi della condanna a Ciro Russo vedete l'ex marito Maria Antonietta è stato arrestato dalla squadra mobile vedete e poi la condanna a 18 anni e lui al momento in cui è stato catturato si era ovviamente tagliato la barba aveva cercato di insomma mascherarsi al telefono contattò e minacciò la donna in pubblico uccise Tabaccaia Rota prima udienza in Assise sotto accusa un filippino residente nella città di Reggio e poi rapina in studio legale chiesto rinvio a giudizio il PM Saramerio ha notificato l'avviso per 7 persone e poi ancora una notizia di cronaca vedete posta al vetriolo sui social tra Davi e un avvocato chiesta l'espulsione dall'ordine il massimediologo attaccato al difensor del giovane boss Maurizio Cortesi è stata chiesta l'espulsione dall'ordine l'emergenza i posti letto i rischi per i pazienti vedete onco-ematologici quindi con problemi anche di leucemia durante il primo lockdown circa il 20% dei malati ha scelto di non sottoporsi ai trattamenti programmati per evitare all'ospedale le preoccupazioni del direttore tecnico tra pianti Massimo Martino che vedete in fotografia e poi una cabina di regia per la città metropolitana regione e partite la proposta della CISL a Rosarno 35 positivi e 210 in quarantena guerra di numeri a Giffone 14 nuovi casi non risultano nel conteggio del comune e poi qua vedete dettagli particolari aumento a Taurianova e Oppido ancora continuano a salire i numeri vedete ieri infatti sono risultate positive altre 5 persone a Taurianova e sono quindi 57 positivi attualmente accertati tutte le persone interessate di queste alcune sono anche sintomatiche ha comunicato l'amministrazione comunale su Facebook e sono state poste in regime di quarantena le stesse appartengono a tre diversi nuclei familiari e dopo lo stop di due giorni ieri si è avuta notizia di altre due persone positive a Messignadi nella frazione di Oppido e Mamertina che è a settembre era stata dichiarata zona rossa dalla regione per via del focolaio che si era sviluppato e poi salgono a 13 i contagi più alti 4 a Oppido centro per un totale di 17 insomma bisogna fare i numeri ma ormai sono numeri dobbiamo dirlo purtroppo ahimè quotidiani Sinopole e Santofemmia non ne possono più cresce il malcontento per la mancata revoca delle due zone rosse capiremo perché ancora rimangono zone rosse Palmi il sindaco Lanuccio negativo e in isolamento due casi a Bagnara tra positivi a Villa San Giovanni ma almeno altri 5 vanno convalidati dall'Asp e questa è la situazione 5 Frondi chiude le scuole Polistena ancora resiste vedete l'ordinanza della sinaconia dopo l'esito di 11 test rapidi sui genitori e alunni quindi risicono i sali a quota 14 contagiato un insegnante all'istituto comprensivo quando ci sono i contagi bisogna chiudere le scuole poi dopo i tempi utili si riaprono coronavirus nel Regino vedete l'ocride il sistema rischia il collasso e qui parla qualche esperto vedete qui sono i laboratori privati strapieni ospedale impotente sanità pubblica in ginocchio vedete Avelis e Mori il commissario regionale ha mancato tutti gli obiettivi purtroppo la situazione è questa e vedete lunga fine in un laboratorio privato adesso Antella Verde e poi Mario Mori i laboratori privati purtroppo hanno diciamo queste lunghe file perché ci si rivolge a loro per eventuali tamponi Gioioso Ioni che insegnante contagiata ha chiuso alla scuola di località Cerchietto lo scrive lo comunica il sindaco a fuda di Gioiosa e poi Bovalino 35 attivi e 164 quarantene il sindaco Mesano annuncia un più 9 negli ultimi due giorni a bianco altri 4 casi in totale sale a 14 positivi ma nessun allarmismo questa è la situazione generale a Bovalino vedete ci sono 5 nuovi casi e 14 guariti a questi 5 si sono aggiunti ieri altri 4 che lasciano di fatto Bovalino in una situazione di stabilità anche se complessivamente il numero è 6 da 65 dei contagiati nel territorio comunale in generale ma ci sono i guariti quindi una situazione che si sta bilanciando Maria Di Gioiosa 13 contagiati 2 sono in ospedale sono saliti quindi a 13 contagiati di coronavirus di cui 2 ricoverati in ospedale a dare notizia è il primo cittadino Geppo Femia che ha spiegato così la scelta di mantenere chiuso il cimitero comunale nel giorno dei defunti il dovere dice di pensare alla salute dei vivi intanto questo anomalo 2 novembre il parroco Don Massimo Nesci non ha fatto mancare la preghiera e la benedizione dei defunti davanti al cancello chiuso del Campo Santo quindi ha voluto Don Massimo andare a benedire ugualmente anche col con il cancello del cimitero chiuso coppia convivente positiva al virus altre due positività a caoloni ne abbiamo dato notizia noi anche nei giorni scorsi la notizia della sindaca la coppia era da giorni in isolamento domiciliare i sintomi dell'uomo sono lievi mentre la donna risulta asintomatica conteggiata anche due casi e la terza quindi collegata a questi due casi e una terza ordinanza di quarantena a scopo preventivo intanto si attende riconosce l'esito secondo tampone effettuato venerdì scorso sui due ragazzi di Caolonia che frequentano le scuole medie l'Agrario e l'ITIS di Roccella quindi c'è anche l'esito dovrebbe arrivare del secondo tampone dei ragazzi trovati positivi Ardore 17 infettati si attiva la consulta anche a Dardore 17 positivi non mancano in nessun paese a Locle Bova un cittadino ricoverato poi al GOM andiamo ancora avanti vedete con Dofuri positivi a quota 30 uno ricoverato quindi quasi tutti asintomatici il primo cittadino e poi il circo del PD propone misure per migliorare il sistema dello screening ma la situazione rimane costante Tirrenica la prima parte dell'intervista al neosindaco di Torianova Biasi iniziato dall'ordinario ma senza il PSC siamo legati l'elezione credo di aver lasciato un buon ricordo e qui si parla anche di altro oltre che di coronavirus poi raccolte 19 sacche di sangue l'Avis a Delia Nuova lo vedete viene messo in evidenza in questo articolo buoni spesa illegittimi 13 persone denunciate a Varapodio e poi andiamo in basso pagina ha giuricato il servizio di raccolta rifiuti Villa San Giovanni una ditta di Gallarate subentrerà all'AVR poi tra tra inciviltà e pochi vigili la sosta selvaggia e la regola a Villa San Giovanni le vie principali della città sono intasate spesso pericolose per i pedoni ancora Tirenica fuoco incrociato sulla giunta ma Alessio tira dritto vedete a Gia Tauro critiche ma il sindaco va per la sua strada ancora pochi giorni di disagi per la chiusura di via Buozzi un collettore acceduto a causa delle forti piogge Palmi il primo in corso i lavori del ripristino della sede stradale e poi ancora raccorte del sangue anche a San Ferdinando e amioliodosi cardiologia sarà centro d'eccellenza vedete l'ospedale di Polisten l'unità operativa complessa diretta al primario Vincenzo Amodeo nella rete che studia la malattia Palmi lega ambiente solidale con Enzo Infantino per quell'attentato che come sappiamo ha coinvolto ha bruciato la macchina a Infantino scusate vediamo si ok giusto per misurare Poliamboratorio chiuso l'allarme del comitato e invece anzi andiamo sulla ionica sbarcando su questa fotonotizia vedete incendio a Comunia zero rischi tutti i valori sono nella norma questo è importante a Roccella addio ad Antonio Zito sindaco della rinascita qui dice si è spento a 90 anni ma a noi ci pare che avesse 80 un errore probabilmente sul titolo la comunità piange la scomparsa di uno dei suoi cittadini più illustri a lui si devono i progetti all'anfiteatro dell'auditorium del porto delle grazie era stato sindaco della città Antonio Zito Toto Zito come tutti lo conoscevano un sindaco molto autoritario e anche diciamo con grandi qualità infatti era stato sindaco per un decennio dal 1980 al 1990 ovviamente era lo zio dell'attuale sindaco Vittorio Zito Poliamboratorio chiuso l'allarme del comitato interviene Parizi in comune assurdo che l'ASP pensi di ridurre i servizi territoriali destinati ai nostri anziani e quanto viene detto e poi Bagalati vedete campo sportivo di Mulino progetto di riqualificazione ad Ardore Todarello e Giampaolo coltivavano canapa indiana hanno patteggiato la pena quindi e poi trovato morto lo scafista Cazzacco che aveva tentato la fuga quindi era scappato si era toffato in mare per non essere rintracciato dalle forze dell'ordine e le ricerche si erano protratte per diversi giorni e poi è morto e l'hanno trovato ieri è stato trovato il cadavere del giovane che il mare ha restituito ed è stato avvisato è stato giustamente un pescatore ha notato la cosa e ha fatto scattare l'allarme a Eller di Camini ed è presunto complice che era riuscito a raggiungere la riva e che invece era stato arrestato tragedia consumata vedete mercoledì scorso durante lo sbarco del veliero con i 76 migranti andiamo giù vedete Caulonia 15 colpi sparati contro un negozio sprendi e sprendenti attentato intimidatorio nel mirino del racket una rivendita di articoli per la casa sulla statale 106 una vergogna che accadono queste cose ancora si va con i colpi di pistola è una vera vergogna ecco qui l'attività commerciale che tenta diciamo di imprendere come si dice e di investire sul territorio dando posti di lavoro e poi si trovano le solite i soliti soggetti che vanno a intimidire per ottenere qualcosa in un momento come questo poi una vergogna un momento di crisi una città commerciale turistica vedete siderno i programmi dei candidati partiamo da Maria Teresa Fragomeni che vedete in foto per la corsa per il comune una città commerciale turistica a misura di giovani e di sportivi una lista di priorità di 16 punti l'obiettivo è farla tornare meta d'eccellenza e motore dell'economia del comprensorio questo viene detto dalla candidata e poi Aristebava incomincia con questo giro di persone per di candidati a sindaco per conoscere appunto il programmi la differenziata porta a porta non si vede da due settimane Maria Di Gioiosa invece lamenta ci sono le lamentele dei cittadini vedete quindi il problema della differenziata continua andiamo a dare uno sguardo al meteo che è il tempo buono temperature in costante anche salita possiamo dire quindi miglioramento continueranno le belle giornate lasciamo il quotidiano del sud per andare il quotidiano del sud vedete regole diverse tra le regioni con tre scenari e quanto disegna il nostro presidente del consiglio Conte oggi si saprà se la Calabria rientra non si arresta la curva di decessi e terapie intensive però cala il numero dei nuovi positivi ma anche quello dei tamponi vedremo in ogni caso la curva si è leggermente raffreddata almeno questo hanno notato gli esperti ieri regioni i reparti di emozioni sono ormai vicini al collasso per fortuna dobbiamo dirlo non è il caso della Calabria che ne ha rispetto al numero utilizzato ora in questo momento prove di disgelo governo opposizioni e poi a Merkel la luce cerchiamo di ricaricare la pagina dicevamo la Merkel la luce in fondo al tunnel è ancora lontana questa è la situazione in Germania ma anche nel resto del mondo testa a livare per bambini affidabile come il tampone e poi Francia e record di contagi i morti nel mondo oltre la soglia di 1,2 milioni in Francia ci sono circa 50 mila al giorno nuovi positivi due bambine estratte vive dalle macerie al sisma nel sisma dove si è verificato il sisma sul leggeo ritrovamento a Smirne dopo circa 60 ore dalla scossa sono rinate Trump vedete risale nei sondaggi Biden si mostra fiducioso tutto pronto per l'election day presidenziale da oggi si parte vedete all'attacco vedete l'università di Kabul rivendicato dalla locale Isis e poi Vienna spari vicino alla sinagoga ieri ci sono stati dei morti non si esclude la matrice terroristica anzi si ipotizza la matrice terroristica e si parla non si parla ieri ci sono stati sette morti e poi si parla anche di una quindicina di feriti ancora la Calabria potrebbe evitare la chiusura totale cerchiamo di capire perché c'è il codice RH sul quale il governo dovrebbe in un certo senso assegnare i parametri oggi i nuovi dati sull'indice RT che potrebbe anche riaggiornare la situazione lo ricordiamo l'indice RT quando sale sopra l'1,5 c'è lo scenario 4 quindi l'allerta massima e la Calabria potrebbe rientrare in questo ma bisogna dire che l'indice RT tiene conto solo dei positivi sintomatici e non degli asintomatici che in Calabria sono in maggioranza comunque potrebbe danneggiare tra virgolette la nostra regione in questo senso posti letto dalla regione rimodula il POR cofinanziato per il cofinanziamento per raggiungere 136 previsti nel piano di giugno scorso vedete raggiunta quindi trova nuovi fondi e poi il dato sui positivi resta elevato scuole chiuse in via precauzionale in diversi paesi della provincia mentre a Catanzaro al Pugliese muore un'aziana di 87 anni contagi in costante aumento dilaga l'allarme nelle scuole non c'è scuola non c'è località che ahimè è stata toccata giallo sul numero dei contagiati e corsa dai privati per i tamponi ancora discresiva fra i positivi dell'aspe e quelli social dei sindaci anche alla Mezzia è la stessa situazione ma numeri totalmente diversi 7 insegnanti risultati positive a San Pietro a Maida Focolaio nelle scuole non chiuse da lunedì a Maida un altro caso andiamo avanti ancora Reggio Calabria un altro decesso e 90 nuovi contagi e qui la situazione di Reggio Calabria la morte al GOM riguarda una donna di 88 anni con altre patologie molto severe e poi qua vedete fa un resoconto dei nuovi contagi ce ne sono di altri un altro a Marina un altro a Benestare anche sulla Locke e poi ci sono anche numeri totali il centro più colpito resta Bovalino con 38 casi poi c'è Ardore con più 5 di ieri poi Mammola con 17 e ancora Bianco con 13 Locri con 13 Marigio-Iosa con 9 Africa con 9 Siderno con 9 e poi riguardo ai nuovi che ha segnalato ieri uno a Platì e uno a Brancaleone e poi la coppia di Caolonia 5 in tutto nella città ancora 4 a un altro a Marina di Gioiosa insomma ce n'è per tutti sulla piana di Gioia Tauro vedete c'è timore a Palmi dove i soggetti positivi hanno toccato quota 41 poi sale quota 41 infezioni vedete Palmi c'è proprio un articolo dedicato chiusi due studi comprensivi vedete il sindaco nella fotografia a Petiglia vedete quindi ancora 101 nuovi casi a Cosenza i ricoverati superano 70 e cresce anche la corsa a medicine e integratori per cure fai da te c'è proprio questa positiva due donne e un'assistente scolastica e poi sui nuovi casi Re San Montalto per i tamponi drive-in carabinieri intervenuti per reperire i test richiesta troppo alta file lunghissime anche a Cosenza 11 casi in un solo giorno vedete a Corigliano Rossano tra tra i positivi anche un paziente allo SPOC di Giannettasio vedete andiamo ancora avanti nuovo decreto vedete e i nuovi poteri al commissario previsti anche nuovi fondi vedete ancora Cotticelli che per ora dovrebbe rimanere prima di lasciare il posto a un altro super commissario il commissariamento lungo 10 anni e qui c'è la storia dai tempi di Scopelliti viene spiegata in questo articolo di Bruno Gemelli relazioni di Forza Italia fa muro contro la proroga del decreto inaccettabile dice decreto Calabria e poi andiamo sulla cronaca in Calabria era capace di intendere e volere così il GUP motiva la condanna dell'uomo che provò a bruciare viva la moglie lo svolgimento dei fatti dimostra che tutto fu pianificato quindi 18 anni per russo in foto vedete eccolo lì avvocato rapinato per vendetta dopo la separazione e qui anche procede appunto il processo ditte fallite per aggirare l'erario 7 gli indagati sequestrati beni per un valore di 2,5 milioni di euro agli arresti domiciliari tra imprenditori legati a nota famiglia così dice l'articolista andiamo avanti riciclaggio con i soldi dell'otto vedete l'operazione questo è un articolo di Francesco Sor Giovanni i carabinieri di Brescia indagano 21 persone legate ai Papalia al clan di Platì che usavano i programmi tv per ripulire il loro denaro vedete qui tutta l'operazione che si è svolta gran parte a Brescia e poi lo studio dei flussi migratori a quelli turistici vedete nel fotino Sonia Ferrari che terrà mercoledì il webinar di presentazione della ricerca sul turismo dalle radici lasciamo anche questa pagina trovato cadavere sulla spiaggia di Camini l'abbiamo data ieri il corpo scoperto da un residente durante una passeggiata e vedete il corpo sulla spiaggia potrebbe non potrebbe è lo scafista che è fuggito durante l'ultimo sbarco dei 76 nuovi aiuti a lavoratori ed imprese contributi per 52 milioni a favore del mondo agricolo e poi la stabilizzazione degli LSU e LPU se ne discute il 5 in conferenza unificata scarti ambientali e rifiuti dei rifiuti per la bioedilizia Abramo chiesto il concordato il rischio del fallimento anche il Tribunale di Roma lo scorso 31 ottobre ufficializzato solo ieri forte preoccupazione delle segreterie appunto sindacali per la richiesta di Abramo Costmarker la struttura rischia il fallimento il governo agisca siamo al collasso la Confcommercio è arrivato il novello di Calabria in agricoltura vedete prodotti circa 12 mila bottiglie nonostante l'incertezza dei mercati e poi il grande problema dell'uso dei fondi strutturali il dibattito vedete organizzato reggio pagamenti prorogati fino a giovedì clamoroso doppio di servizio servizio inesistente impossibilità di pagamento e quanto viene appunto messo in prima e poi siamo tutti concetta liuzzo pioggia di reazioni dopo il femminicidio a Montebello Ionico il sindaco dal sindaco al vescovo è terribile questo femminicidio che è avvenuto a Montebello in questa contrada ma c'è un'unione di intenti l'asi Calabria rinnova i suoi vertici vedete confermati Fabio Gatto e Giuseppe Melissi con l'assemblea elettiva con commercio virtuoso aperte le iscrizioni anche a Reggio provincia ci sono i primi tre casi positivi dove a Bova almeno così il sindaco comunica anche la quarantena domiciliare per altri 5 e poi Villa San Giovanni vedete la foto il sindaco facente funzioni Maria Grazia Rechichi mi aspetto altri casi a maggior parte dei nostri positivi tra i 20 e i 40 anni screening mammario gratuito a Boba Marina a Bagnara invece assise fiume sui debiti del comune a condo furi servizi e prestazioni creditori tutelati nella loquide alimentari e farmaci a domicilio ad ardore vedete la consulta giovanile riprende il servizio di consegna lo scrive Natalino Spadolisano monastarace 30 anni del coro polifonico dedicato a Michele Valenti a Michelangelo Valenti celebrazioni nella chiesa di San Giuseppe lavoratore complimenti al coro che abbiamo gustato domenica scorsa in diretta tv su telemia proprio nel programma la domenica del borgo il libro di Rocco Romeo insegnanti di sostegno tecnologie nuove metodologie didattiche lo scrive Pino Albanese lo vedete tra parensi il fotino è proprio nei nostri studi di Calabria Sud e poi caolonia 12 proiettili contro le saracinesche di un nuovo esercizio commerciale vedete splendidi e splendenti 12 proiettili che hanno forato e lasciato il segno a un'attività commerciale sono fatti deprecabili poi in un momento come questo insomma non c'è che dire e poi a Platì vedete la DAD la didattica a distanza amplifica tutte le distanze la consigliera comunale Ersilia Cedro stigmatizza il deficit di dispositivi così le fasce sociale più povere svantaggiate rischiano una dispersione vediamo cosa faranno i comuni una dispersione indotta vediamo cosa faranno i comuni per cercare di evitare questa dispersione è compito anche delle autorità comunali aiutare i più disagiati lampade votive contributo annuale da versare entro fine mese a monasterace e poi piana buone spese a scovati altri furbetti ieri 12 denunce a Varapodio a Rizziconi altri due cittadini contagiati il sinaco chiude le scuole mentre a 5 fronti casi sospetti Iconia corre ripare anche qua le scuole chiuse poi studio vedete della miliodosi il reparto di cardiologia nella rete delle eccellenze accorpamento da scongiurare comune vedete è qui nel Vibonese incontro con i commercianti per un nuovo lockdown anche parziale sarebbe devastante e quanto dicono appunto a Vibbo il progetto città di Valencia è reale nasce la proposta appunto dell'associazione a favore della fusione di 14 comuni del Vibonese poi tra casi in aumento e scuole chiuse anche nel Vibonese lasciamo lo sport i titoli principali serve più cattiveria a Crotone la regina si lecca referite Cadanzaro è sbandata che preoccupa e poi una domenica da dimenticare per rendere l'occella che annaspano e sono in fondo la classifica mentre San Luca sorriso a metà un addio a Gigi Proietti l'Italia lo piange erano le pagine quattro pagine dedicate appunto al noto artore amato un po' da tutti qualche nuvoletta ma non si parla di piogge temperature rimangono ovviamente come vedete assolutamente costanti è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento naturalmente con la prima edizione del TG da Synergy Cittanova ancora ribassi grande campagna sulle stufe a pellet risparmi fino al 65% prezzi giù anche su telefonia ed elettrodomestici Synergy Cittanova vicino alla villa comunale affrettati sconto su misura anche per te che meraviglia netcucine cucine incantevoli a prezzi imbattibili ecco il modello Kelly con l'elegante maniglia integrata è disponibile in diversi colori e misure e include la chiusura ammortizzata di ante cassetti e cestoni quasi 6 metri con penisola e ben 4 elettrodomestici becco ma che cucina a soli 3.290 euro cerca rivenditore più vicino su netcucine.it netcucine chic e low cost rivenditore ufficiale Mosca Arredamenti in via nazionale statale 106 a Monastracio Marina presso il canile Dog Toffee si effettuano servizi di cremazione per animali d'affezione con ritiro presso le vostre abitazioni o cliniche veterinarie di tutto il territorio regionale il tutto con mezzi autorizzati ASP e personale qualificato il servizio di cremazione singola permette di ricevere una cremazione esclusiva del vostro animale si intende ritiro più cremazione con recupero ceneri in 24 ore e possibilità di assistere alle operazioni di cremazione del vostro amico a quattro zampe richiesta dell'urna a vostra scelta Dog Toffee Contrada Calamandre Caulonia ama chi ti ha amato veramente auto albanese concessionario DR ci trovi a Siderno in via delle Americhe 42 telefono 0964 34 45 64 musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' da volte semplice come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriannale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Grazie a tutti.